Bo! Bo! Bo sei con noi! Ciao amici! Lui è Daisy e io sono Bo, il mago! Siete pronti a partire? Bo sei con noi! Bo sei con noi! Bo sei con noi! Tutti insieme andiamo dai! Il movimento è via, mi date l'energia Per poi salire su! La bo potenza è qui, sei bella che è così! Bo bo bo! Sei con noi! Se c'è da fare sai, ti aiuteremo noi! Muovitivi e anch'io lo farò! Non smetteremo mai, ci muoveremo e poi La bo potenza riceverò! Bo sei con noi! Bo sei con noi! Bo sei con noi! Tutti insieme andiamo dai! Massima Bo potenza! Bo è la creatura delle scosse! Bo sei con noi! Sentito! Eccone un'altra, Daisy! Scosse! Amici miei! Che bello che siete di nuovo qui! Oggi il nostro castello è veramente traballante! Non mi piacciono per niente queste scosse Dobbiamo scoprire cosa provoca queste scosse C'è soltanto una persona che può saperlo Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire Volete aiutarmi? Vi va! Grazie mille, amici miei! Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci Dobbiamo entrare nella bozzona La bozzona! Coraggio, amici cari! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere Spostate quei giocattoli e tutto il resto Così entreremo in azione presto presto Quasi pronti! Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago Mettetevi al centro della vostra bozzona Puntate il dito in aria Così Adesso ruotatelo per benino Continuate a ruotarlo Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete energia mi date E il mio fantastico bracciale della potenza a brillare fate! Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Ora con l'altra mano Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massima boh potenza! Il mago! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, desi e boh! Che cosa mi dite? In realtà, mago! Speravamo potessi dirci tu come mai il castello sta... Non dite me, non dite me, non dite me! Volete sapere perché oggi il castello trema tutto? Proprio così! Oh, sei davvero un mago saggio! Chi potrebbe essere stato? Fatemi vedere! Aha! Come immaginavo! È la creatura delle scosse! La creatura delle scosse? E che cosa sarebbe? La creatura delle scosse tutte le cose fa tremare! È come un grosso terremoto quando si mette a camminare! Vedete? Per essere una creaturina così piccola ha i piedi enormi e il passo pesante così trema tutto quando cammina per strada come un gigante! Vuoi dire che la creatura delle scosse farà tremare tutto il mondo ogni volta che camminerà da qualche parte? Temo proprio di Sibo! Troppo tremolante! C'è soltanto una cosa da fare! Troveremo la creatura delle scosse e le impediremo di far tremare tutte le cose del mondo! Per trovare la creatura delle scosse dovete entrare nella camera delle porte! La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più! Dietro la porta numero tre troverete ciò che cercate! Ecco! Guardate! La creatura delle scosse! Trovate quelle tre porte e troverete la creatura delle scosse! Grazie mille, mago! È stato un piacere! Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione! Quindi bisogna trovare tre porte! Per far apparire la prima porta dobbiamo correre sul posto! Siete nella vostra bo-zona? Bene! Allora conto fino a tre Poi correte con me! Uno Due Tre Via! La camera delle porte! Coraggio amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti ma aiutatemi! Forza! 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 Potete marciare o camminare ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurando la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete energia mi date e il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima potenza! Forza amici, correte! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Guarda! Che cos'è quello? Penso che sia uno scogliattolo ma sembra che stia volando Entriamo per vederne uno È chiusa! Ci occorre la chiave Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete Come una torre! Mettetevi sulle punte dei piedi Allungatevi! Se ci allungheremo La chiave prenderemo Più in alto che possiamo Sulle braccia tendiamo E... Saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Oltrepassiamo la porta dello scogliattolo Andiamo! Venite con noi! Un campo! Ed è pieno di piccole buche Però niente scogliattoli volanti No! Per caso vedete la nostra prossima porta? Ah! Guarda! Eccola lì! Proprio dall'altra parte del campo! Andiamo, amici miei! Credo che sarà super facile! Oh! Scogliattoli! Oh oh! Altre scosse! Wow! Scogliattoli volanti! Come facciamo ad arrivare Alla nostra porta Con tutti questi scogliattoli Che ci volano intorno? Benvenuti nel campo Degli scogliattoli volanti! La creatura delle scosse Proprio qui nei dintorni Sta camminando E in questo modo Gli scogliattoli volanti In aria sta mandando Non potete oltrepassarli Mentre sono in volo Dovete camminare Sotto gli scogliattoli volanti Stando attaccati al suolo Stare attaccati al suolo Per passare sotto Gli scogliattoli volanti Che strano modo Di entrare in azione Per stare attaccati al suolo E passare sotto Gli scogliattoli volanti Dovrete imitare Un animale! Imitare un animale! Amici miei Potete aiutarci A scegliere un animale Secondo voi Quale animale Dovremmo imitare Per stare attaccati al suolo E passare sotto Gli scogliattoli volanti? Un canguro che salta! Un insetto che cammina Una foca che applaude Un insetto che cammina? Ottima scelta! D'accordo, amici miei Per stare attaccati al suolo E passare sotto gli scogliattoli volanti Dobbiamo camminare 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 Come un insetto Guardatemi! Daisy è un perfetto insetto che cammina Diventiamo tutti insetti che camminano Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre Poi fate come me Uno Due Tre Via! Fate come me Chinatevi su mani e ginocchia Cercate di camminare Come un insetto Camminate, amici! Fate attenzione Agli scogliattoli volanti Mentre camminate Andate veloci Più in basso che potete E passate sotto di loro Continuate a camminare, amici! Oh oh! Mi serve più energia Camminate con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete Energia mi date E il mio fantastico bracciale Della potenza Brillare Fate! Camminate, amici miei! Sì! Mi state davvero aiutando La vostra energia Sto sentendo Massima Boppotenza! Camminate veloci Resistite ancora un po' Stiamo per arrivare alla porta Camminate solo un altro pochino Amici Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo superato Gli scogliattoli volanti Ci siamo riusciti Anche grazie a voi È ora del ballo di Bo Ballate con noi Vediamo che ballo Sapete fare poi Andiamo, amici! Ballate con me Davvero un bellissimo ballo Amici miei La seconda porta! Guarda! Una iena Sembra che stia saltando un ostacolo Una iena sportiva Sarà divertente da vedere È chiusa Ci occorre un'altra chiave volante Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci Come un albero In punta di piedi Allungatevi! Se ci allungheremo La chiave prenderemo Più in alto che possiamo Sulle braccia tendiamo E... Saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Oltrepassiamo la porta della iena Che salta agli ostacoli Da questa parte! Sembra che stia per iniziare una gara Con le iene Non è il momento di guardare la gara, Daisy Dobbiamo entrare in azione Per caso vedete la nostra ultima porta? Guarda! Eccola lì! Proprio dall'altra parte della pista Andiamo, amici miei! Credo che sarà super facile Scosse! Scommetto che la creatura delle scosse Sta camminando qui vicino Veloci, amici miei! Andiamo prima che le scosse comincino di nuovo Si sposti per favore, signor Struzzo Perché questo Struzzo vestito da arbitro Non ci lascia passare? Benvenuti al raduno delle iene Che fanno la corsa ad ostacoli Le iene sono pronte a saltare Ma la creatura delle scosse Sta facendo cadere gli ostacoli Così hanno difficoltà a gareggiare Quando la gara comincerà Avranno bisogno di voi Per sollevare gli ostacoli che cadranno Ma dovrete muovervi veloci per prenderli Così le iene saltarli tutti potranno Muoverci veloci E prendere gli ostacoli che cadono Ma come possiamo fare? Per muovervi veloci e sollevare gli ostacoli che cadono Dovrete imitare un animale Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale Secondo voi, quale animale dovremmo imitare Per muoverci veloci e sollevare gli ostacoli che cadono In modo da permettere alle iene di completare la loro gara? Un cavallo che galoppa Uno scogliattolo scavatore Un pesce che nuota Un cavallo che galoppa? Ottima idea! D'accordo, amici miei! Per muoverci veloci e sollevare gli ostacoli che cadono durante la gara Dobbiamo galoppare, galoppare, galoppare come un cavallo Guardate come galoppo! Fantastico galoppo, Daisy! Trasformiamoci tutti in cavalli che galoppano Siete nella vostra boh zona? Bene! Allora io conto fino a tre E poi fate come me Uno Due Tre Galoppate Forza! Sollevate le ginocchia e saltate! Andiamo, galoppate come un cavallo! È divertente! Galoppate veloci, amici miei! Ops! Attento agli ostacoli, Daisy! Galoppate, cavalli! Dovete stare davanti alle iene che corrono Per raggiungere gli ostacoli Cercate di andare più veloci che potete Continuate a galoppare! Oh oh! Ho poca energia! Galoppate con me, amici! Quando insieme a me vi muovete Energia mi date E il mio fantastico bracciale della potenza Brillare fate! Galoppate veloci, amici miei! Scommetto che potete farcela! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo! Massimo, boh! Potenza! Galoppate, galoppate! Solo un altro pochino! Quando la gara terminerà Saremo vicini alla nostra porta! Sì! Ottimo galoppo, amici miei! Abbiamo sollevato tutti gli ostacoli per le iene Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare poi! Andiamo, amici! Ballate con me! Andiamo, amici! Davvero un bellissimo ballo, amici! Credo che quella iena voglia regalarti delle scarpe da ginnastica, Daisy! Grazie! Wow! Sono morbide e super leggere! Devono essere delle scarpe da ginnastica proprio super comode! Oh, sembrano così morbide! Che di sicuro saranno più leggere dell'aria! Dovresti portarle con te, Daisy! Non si sa mai! Potrebbero tornarci utili più tardi, sai! La terza porta! La creatura delle scosse! Non è chiusa! Andiamo, amici miei! È il momento di impedire alla creatura delle scosse di far cremare tutte le cose del mondo! Wow! Sembra quasi che ci sia stato un terremoto! Amici miei, indovinate un po' chi vive qui? Lo so io! La creatura delle scosse! Avete visto? Ha davvero dei piedi molto grandi! Se solo ci fosse un modo per rendere i suoi passi meno rumorosi e pesanti! Queste! Queste! No, grazie, Daisy! Non posso provare le tue scarpe da ginnastica morbide più leggere dell'aria! Sto provando a pensare a qualcosa che è... Aspetta un momento! Le scarpe da ginnastica super morbide più leggere dell'aria renderebbero perfino il piede più pesante e leggero come una piuma! Ogni passo che la creatura delle scosse farà sarà leggero e morbido! Bravo, draghetto Daisy! Sei un vero genio! Datti da fare! Amici miei, è stata a guardare! Creatura delle scosse! Guarda un po' che cosa ti ho portato! Beh, guardate come si diverte! Le piacciono! Adesso i suoi piedi non sono più pesanti e rumorosi! Sono soffici, morbidi e leggeri! E soprattutto niente più scosse! E finalmente la creatura delle scosse non provocò più scosse felice e contenta! Ecco! Ogni cosa è tornata al suo posto dopo tutte quelle scosse! Wow! Adesso cos'è che fa traballare il castello? Oh, è Daisy! Forse dovresti andare fuori a giocare a campana, Daisy! Ciao! Ci siamo davvero dati molto da fare oggi, amici! Abbiamo impedito alla creatura delle scosse di far tremare tutte le cose del mondo! Anche grazie a voi! Siete ancora nella vostra Bo-zona? Allora facciamo un altro ballo di Bo! Il ballo di Bo più sfrenato di tutti! Ciao! Ci siamo riusciti! Anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare poi! Coraggio, amici miei! E ricordate, continuate a muovervi e sempre in azione! Grazie! Grazie a tutti. Grazie a tutti.